Buongiorno e benvenuto a un nuovo video. Questo video è dedicato al prodotto Bello Ben Fatto. Quindi un prodotto Bello Ben Fatto è un prodotto di qualità, di design e riconoscibile come un prodotto italiano. E creare un prodotto Bello Ben Fatto è una delle chiavi per esportare il Made in Italy. Quindi cos'è il Bello Ben Fatto? Che definizione possiamo dare? Bello Ben Fatto è la definizione che viene data ai prodotti delle aziende italiane capaci di distinguersi nei principali 31 mercati al mondo. Quindi andremo a vedere che appunto un prodotto Bello Ben Fatto è la chiave per esportare il Made in Italy. La borghesia globale top spender, che sono i nostri clienti ideali, clienti altospendenti, ha un debole per i prodotti italiani. Prodotti di alta gamma che si distribuiscono in tutti i comparti produttivi, ma che trovano la loro massima espressione a prodotti che siano legati al gusto e alla creatività italiana. I prodotti della categoria Bello Ben Fatto sono prodotti Made in Italy di alta qualità e di segno estetico importante. I prodotti Bello Ben Fatto sono prodotti industriali legati alla cultura del saper fare, alla cultura italiana del saper fare, alla cura dell'estetica e alla nostra capacità tecnica e tecnologica delle aziende italiane. I valori fondanti dei prodotti Bello Ben Fatto sono quindi utilità, fascino, bellezza e funzionalità. Andiamo a vedere i segni distintivi dei prodotti Bello Ben Fatto. Il prodotto Bello Ben Fatto è un prodotto di alta qualità, quindi qualità di materiali, con delle lavorazioni molto accurate, è un prodotto assolutamente di design e deve essere tassativamente prodotto in Italia per essere venduto come prodotto Made in Italy. A livello strategico, l'azienda che intende creare, commercializzare e produrre un prodotto Bello Ben Fatto, deve valorizzare la propria produzione, quindi bisogna puntare sempre di più sulla qualità del prodotto rispetto alla quantità e quindi è necessario che venga creato un brand, quindi un marchio legato all'heritage italiano e che possa sfruttare così il grande cappello del Made in Italy, attraverso la creazione di una collezione di prodotti dedicata alla fascia alta di mercato, quindi non essere più monoprodotto, ma organizzare i propri prodotti in collezioni, sempre nella fascia alta di mercato. Il risultato di questo, dei segni distintivi di questo processo strategico, è che così l'azienda è in grado di vendere i propri prodotti nel segmento di mercato premium luxury, a prezzi più elevati rispetto al competitor generalista che si rivolge al mass market. Diciamo che, come vedremo, ci sono circa 13 settori nei quali i prodotti Bello Ben Fatto sono inseriti, ma sicuramente le 4F della produzione italiana, quindi Furniture, Food, Fashion e Ferrari, che indica l'automotive alto di gamma, sono quelli che vanno per la maggiore. Quindi, ad esempio, andiamo a vedere l'Acqua San Pellegrino, che è sicuramente un master italiano nel mondo, tutti i ristoranti di alto livello negli Stati Uniti, ma anche nel Medio Oriente e in Estremo Oriente, hanno San Pellegrino da offrire ai loro clienti, piuttosto che un prodotto d'arredamento, come questa cucina rifa, di cui, appunto, della mia azienda, della nostra azienda, una doppia isola che ha avuto un enorme successo sui mercati internazionali, attraverso, appunto, ed è richiesta da clienti molto facoltosi, piuttosto che le ultime creazioni di George Germany, che rappresentano il mondo del fashion, e, appunto, l'ultima nata a Maranello, che è la Ferrari Roma, che rappresenta l'eccellenza italiana nel campo dell'automotive. Quindi, andiamo a parlare di questo tipo di prodotti. Questi sono i prodotti che si indicano che sono esattamente i campioni del prodotto bello ben fatto. L'obiettivo di questo prodotto è, poi, esportare. Esportare perché il mercato domestico è un mercato importante, ma un'azienda non può basarsi sulle vendite solo sul mercato domestico. Una piccola media impresa italiana, con un prodotto bello ben fatto, deve avere la sua collocale e la sua aspirazione deve essere quella di commercializzare i propri prodotti all'estero, che, appunto, andremo a vedere anche dove e in che tipo di nazioni. Ok, ma già oggi i prodotti italiani di fascia medio alta sono esportati da 17.000 imprese, e rappresentano il 20% delle esportazioni manufatturiere. Attraverso il BBF è possibile esportare la dolce vita italiana, ovvero far rivivere nella percezione del consumatore mondiale il sogno e le emozioni legate al bello dello stile di vita italiano. Quindi, ovviamente, un acquisto di questo tipo è un acquisto... C'è una parte razionale che poi si andrà a giustificare attraverso la spiegazione, la divulgazione anche del prodotto, quindi di come è fatto, del tecnicismo del prodotto, per andare a giustificare razionalmente l'acquisto, ma è la parte emozionale che traina la vendita. Quindi l'obiettivo dell'azienda che crea, propone e quindi esporta un prodotto bello ben fatto è quello di fare appunto rivivere nella percezione del consumatore mondiale il sogno e le emozioni legate al bello dello stile di vita italiano, è quello che noi dobbiamo esportare. Andiamo adesso un po' più nel tecnicismo e nella profondità del contenuto. Quindi le aziende che vogliono creare ed esportare i prodotti della categoria bello ben fatto, quindi un prodotto di alta gamma, sono le due caratteristiche principali. Sono la dimensione aziendale che non è significativa. Questo è un grande vantaggio, perché non serve avere delle enormi aziende per creare un prodotto bello ben fatto, anzi molto spesso sulle piccole e medie aziende che creano questi prodotti di nicchia, di qualità, di alto di gamma, e quindi la dimensione aziendale non è significativa. La dimensione aziendale è relativa. Un'azienda bello ben fatto può essere un'azienda artigianale, una PMI, fino ad arrivare anche a grandi aziende, come abbiamo visto. E la seconda caratteristica molto importante è che l'azienda del bello ben fatto deve essere un'azienda produttrice di beni finali di consumo, BFC l'acronimo. Quindi l'azienda bello ben fatto deve produrre beni finali di consumo orientati al privato, al consumatore finale, indipendentemente dalla modalità di distribuzione, che sia un business to consumer puro, oppure intermediato da rivenditori o distributori. Questa è una chiave. Se non si crea un prodotto che è destinato al consumatore finale, è impossibile creare un prodotto bello ben fatto. Un prodotto bello ben fatto, un prodotto di alta gamma, è specificatamente rivolto al consumatore finale. In questo modo, perché è importante? Perché l'azienda, attraverso il proprio reparto marketing e il proprio brand, può mettere in leva i valori del made in Italy, attraverso un corretto lavoro di posizionamento del marchio che deve enfatizzare le radici italiane. Infatti, se andiamo ad esempio a prendere semplicemente il packaging dell'acqua San Pellegrino, andiamo a vedere, a studiare questo packaging che va a rappresentare esattamente il made in Italy. Poi c'è un altro mio video dove parlo, ad esempio, dell'acquapanna, di come l'acquapanna, magari chiedo la coltesia di mettere la slide, con il packaging dell'acquapanna, ci sono esattamente tutti i segnali che è un prodotto bello ben fatto italiano, dal lettering all'anno di fondazione, all'eritege geografico, al payoff dell'acqua, insieme alla San Pellegrino, appunto, che fanno parte dello stesso gruppo, e uno degli ambasciatori sicuramente del made in Italy. E al fianco delle due caratteristiche dell'azienda Bello e Ben Fatto abbiamo invece quattro caratteristiche del prodotto Bello e Ben Fatto. E le quattro caratteristiche sono la qualità dei materiali, il pregio delle lavorazioni e delle finiture, il design e il prodotto che deve essere, appunto, fatto in Italia. Qualità dei materiali. Il prodotto Bello e Ben Fatto deve essere di assoluta qualità. Non possiamo permetterci di vendere e di consegnare un prodotto italiano di alta gamma che non sia di assoluta qualità. Il consumatore è quindi disposto a pagare un premium price attratto dai benefici intangibili del brand e dal suo posizionamento, ma poi il prodotto, una volta consegnato, deve essere impeccabile. Ok? Probabilmente la qualità non è un elemento così spendibile nel posizionare un marchio, perché tutti parlano di qualità, ma poi il lavoro dell'imprenditore deve essere poi quello di crearlo, il prodotto di qualità, finché, nel momento in cui arrivi a casa del cliente, il cliente si stimi e generi anche un effetto passaparola importante. Pregio delle elaborazioni e delle finiture di fianco alla qualità, un'altra caratteristica del prodotto italiano Bello e Ben Fatto è la presenza di finiture di alto livello. Inoltre, questo elemento può essere raccontato nello storytelling aziendale e nel marketing legato al prodotto per giustificare l'acquisto di un bene che ha un prezzo elevato rispetto al mass market. La terza caratteristica, una delle più importanti, forse la più importante, è quella del design. Ogni prodotto, bello o ben fatto, è un prodotto di design. Con il termine design italiano si fa riferimento a tutte le forme di disegno industriale inventate e realizzate in Italia, compresa la progettazione di interno, la progettazione urbana, il design della moda e la progettazione architettonica. Andiamo a vedere i primi esempi del design industriale italiano. I radicarsi del design italiano nel mondo della produzione industriale avviene per tre importanti oggetti. L'Olivetti Studio 42 è la macchina da scrivere, progettata da Figini e Pollini nel 1935, che è il primo oggetto di design ad essere prodotto serialmente in Italia, quindi il primo prodotto di design industriale. Il radio ricevitore fonola, progettato nel 1940 dai fratelli Luigi e Pier Giacomo Castiglioni insieme a Luigi Caccia Dominioni, e la dizionatrice Summa, progettata da Marcello Lizzoli nel 1940, come primo progetto per l'Olivetti. Andiamo a vedere le foto di questi prodotti e vediamo che sono effettivamente dei prodotti di eccezionale valenza artistica, con un design di altissimo livello per l'epoca e anche oggi. e due di questi tre prodotti sono della Olivetti. L'Olivetti era l'azienda più innovativa del mondo fino agli anni 60 ed era uno degli ambasciatori, se non il miglior ambasciatore del made in Italy nel mondo. Tanto è vero che negli anni 50 Olivetti anticipò di circa 60 anni Steve Jobs e creò i propri store, l'Olivetti Store, che poi appunto l'Apple prese come riferimento per creare i suoi Apple Store. E uno di questi, il più bello di questi, è stato creato a New York, nella Fifth Avenue, dove si formavano delle code di consumatori, di persone che semplicemente volevano andare a fare visita e a rendere omaggio all'Olivetti e al design industrial italiano. Quindi qui vediamo alcune foto del negozio, dello store dell'Olivetti in Fifth Avenue a Manhattan e veramente vediamo che all'interno di questo store è estremamente progettato bene, con una valenza progettuale molto importante, con addirittura anche delle opere d'arte a muro e pavimenti e materiali di rifinitura dello store stesso di altissimo livello come Malmi Naturali Italiani e una modalità di esposizione che sostanzialmente poi l'Apple ha copiato, ha replicato per creare i suoi propri Apple Store, quindi dei prodotti esposti come fossero dei gioielli, rispetto alla classica elettronica di consumo che veniva venduta nei grandi magazzini all'epoca negli Stati Uniti. Un'altra caratteristica dell'azienda produttrice di prodotti bello ben fatto è che il prodotto deve nascere in Italia, quindi è un prodotto in Italia, quindi non è facile fare aziende in Italia, è molto costoso, l'Italia ha costi elevati, un fisco complesso e desoso e delle regole del mercato del lavoro molto rigide. Ma proprio per questi motivi, quindi per andare a recuperare lo svantaggio di fare aziende in Italia, dobbiamo invece creare un prodotto bello ben fatto, posizionandolo nella fascia alta di mercato proprio per andare a marginare di più rispetto a un prodotto mass market e rendere così profittevole un'azienda italiana che difficilmente altrimenti potrebbe rimanere sul mercato a causa degli alti costi del sistema. Ciò nonostante è necessario che un prodotto BBF sia made in Italy attraverso un corretto posizionamento di marca nella fascia alta di mercato, un prodotto di qualità e un marketing di contenuto. Il prodotto BBF sarà quindi venduto a prezzi alti consentendo così di avere un'ottima margine di contribuzione, quindi noi dobbiamo usare il valore del made in Italy per creare un prodotto bello ben fatto che sia legato a un brand che richiami l'italianità e attraverso un marketing di contenuto, quindi di divulgazione di foto, video e copy dedicato esclusivamente ai prodotti di alta gamma venga venduto a prezzi elevati. In questo modo, sfruttando il vantaggio del made in Italy per vendere a prezzi alti, possiamo marginare di più e rendere le aziende profittevoli andando anche a mediare le strutture del sistema italiano che portano l'Italia a essere uno dei paesi più al mondo con costi più elevati per le aziende. Andiamo adesso a vedere invece i settori merceologici dei prodotti bello ben fatto. Quindi come abbiamo detto, furniture, food e fashion, quindi tutta la parte legata al cibo, ai mobili, quindi al design dei mobili e all'industria della moda, sono i comparti a più alto contenuto di eccellenza nella componente dei beni finali di consumo, ma sono ben 11 i settori del BBF, del bello ben fatto, alimentare e bevande, chimica, farmaceutica e cosmetica, legno e arredo, conceria e pelletteria, tessi di abbigliamento, calzature, vetro ceramica, elettrotecnica ed elettronica, motoveicoli, nautica, quindi l'automotive, ottico e orologeria e oggetti di precisione. Questi sono i settori merceologici del bello ben fatto, quindi l'obiettivo, se avete una di queste aziende all'interno di questi settori, è proprio quello di creare un prodotto bello ben fatto. Andiamo a vedere un po' di numeri. Il bello ben fatto vale 86 miliardi di Euro e rappresenta il 15,6% delle esportazioni complessive dell'Italia. L'Italia è il settimo paese al mondo per le esportazioni, ma se consideriamo esclusivamente i BBF, quindi l'alta gamma, l'Italia è il terzo paese esportatore al mondo, dietro la Cina, la Germania e davanti agli Stati Uniti, alla Francia, al Giappone e al Regno Unito. È un risultato obiettivamente straordinario che indica chiaramente qual è la strada da percorrere per le PMI italiane. quindi andiamo a vedere una grafica che abbiamo creato appositamente, dove andiamo a vedere appunto che nei prodotti bello ben fatto, nei prodotti di alta gamma, l'Italia è il terzo paese al mondo. Quindi abbiamo la Cina, il primo paese produttore, poi la Germania, gli Stati Uniti, la Francia, il Giappone e il Regno Unito, la Spagna, i Paesi Bassi, il Belgio e il Lussemburgo. Andiamo a vedere che l'Italia occupa il 4% di quota sull'export mondiale, quindi l'Italia è il terzo paese, è il settimo paese, scusate, per esportazioni, ma il terzo, se andiamo a considerare la quota, dei beni finali BBF, quindi con un 5,5%. E il peso percentuale dei beni finali di consumo sul totale delle esportazioni del paese è il più alto di tutti i paesi citati, con un 32,4%. Quindi in questo caso, in questa speciale classifica, l'Italia è al numero 1. Ma quali sono i mercati di sbocco dei prodotti belli ben fatto, dei prodotti di alta gamma delle aziende italiane, orientate al consumatore finale? Quindi qui andiamo proprio a vedere dove si possiamo vendere i nostri prodotti. I nostri prodotti, quali sono i principali mercati? Sono sostanzialmente dure, quindi non voglio farla troppo facile, ma i dati ci dicono questo, i paesi principali di sbocco del Made in Italy sono principalmente l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America. Difatti l'export italiano dei beni è assorbito per la metà, 51%, dai paesi dell'Unione Europea. La Germania, 11,9%, è il primo mercato delle aziende italiane, seguito dalla Francia al 9,9% e dagli Stati Uniti al 9,9%. Sempre in una grafica dedicata, creata appositamente per questo video, vediamo i mercati di destinazione dell'export italiana messo su grafica. Quindi abbiamo, come detto, la Germania, i Stati Uniti, la Francia, la Regno Unito, la Spagna, la Svizzera, la Cina per il 3,3%, il Belgio e l'Ulsemburgo, la Polonia, i Paesi Bassi, la Turchia e via via tutti gli altri. La Russia solamente l'1,9%, c'è stato un forte calo per chi è nel settore, per chi è un attimo esperto di queste cose. La Russia è uno dei principali mercati e ultimamente causa diversi motivi da cui la crisi economica legata poi alla svalutazione dell'Uro e al fatto che la Russia abbia un'economia che non trasforma, ma semplicemente vende prodotti naturali come il gas, fa sì che oggi sconti una forte, sia un'economia piuttosto debole e ovviamente anche le esportazioni del nostro Paese sono calate. Poi lo vedremo meglio nella slide successiva, la cosa impressionante è che se andiamo a vedere le dimensioni dei Paesi, andiamo a vedere che Paesi piccoli come la Svizzera o il Belgio e l'Ulsemburgo e andiamo a vedere la Svizzera e Belgio e l'Ulsemburgo parliamo di Paesi con in totale 8 milioni di abitanti in Svizzera e circa la stessa cifra per il Belgio e l'Ulsemburgo insieme. Quindi Paesi, ad esempio la Svizzera che ha 8 milioni di abitanti, importa i prodotti belli, ben fatti, quindi i prodotti di alta gamma italiani più di un Paese come la Cina che ha un miliardo e 350 milioni di abitanti. La stessa cosa per il Belgio e l'Ulsemburgo, quindi le cifre, in questo caso i dati, dobbiamo vederli anche contestualizzandoli alle dimensioni dei Paesi, perché questo è un chiaro indicatore di dove io devo andare a vendere il prodotto. Io ho molto più successo se provo ad esportare il mio prodotto in un Paese come il Belgio, l'Ulsemburgo e la Svizzera rispetto a una Cina per un fattore culturale del consumatore. Quindi è un consumatore tendenzialmente acculturato, un consumatore che viaggia, un consumatore che legge, un consumatore che predilige le cose belle, appunto le cose belle ben fatte ed è disponibile a pagare un premium price. E questi consumatori dove si trovano? si trovano appunto in Germania, che è il mercato numero uno, in Francia, mercato numero due negli Stati Uniti, mercato numero uno al di fuori dell'Unione Europea e poi via via in tutti gli altri Paesi Europei, quindi Regno Unito, Svizzera, Belgio e Lussemburgo, Spagna e poi via via tutti gli altri, tra i quali appunto c'è una segnalazione anche su altri Paesi come il Messico, la Russia, gli Ammiati Arabi Uniti, il Canada, il Giappone e Hong Kong. Però contestualizziamo sempre anche al numero degli abitanti e alla facilità di arrivare sul mercato, perché se è relativamente, non c'è niente di facile, è più facile vendere ad esempio in Europa rispetto agli Stati Uniti ed è più facile vendere negli Stati Uniti rispetto a un Paese come la Cina che ad esempio ha completamente un suo internet per ragioni geopolitiche. Ok, non possiamo utilizzare gli stessi strumenti e fare pubblicità nello stesso modo in cui la facciamo in Europa e negli Stati Uniti nella Repubblica Popolare, perché hanno un sistema completamente diverso di internet e non esiste ad esempio Google, non esiste Facebook, hanno i loro canali social e bisogna essere inseriti in quale tipo di canali come ad esempio WeChat, è completamente un alto monto, quindi soprattutto all'inizio per un imprenditore, un'azienda che vuole iniziare ad esportare, i mercati di sbocco devono essere passativamente i mercati vicini e l'estero vicino, ok? L'estero vicino dal punto di vista dell'export delle aziende italiane sono la Germania, la Francia, la Svizzera, il Belgio-Lussemburgo, UK, questi sono il grosso dell'esportazione. Step 2, Stati Uniti, che è il mercato numero uno al mondo di acquisizione di prodotti di lusso e quindi è più difficile, ma bisogna anche essere in quel mercato. poi successivamente a questo ci sarà un video dedicato appunto all'export che numerose persone mi hanno chiesto di produrre. Quindi contestualizziamo questi dati anche rispetto al numero della popolazione. Invece andiamo a vedere quali sono i concorrenti dell'Italia, del BBF, quindi quali sono i nostri paesi concorrenti all'Italia che ospitano aziende che producono BBF. Allora il primo paese nostro concorrente è la Germania, quindi non solo è il primo paese di esportazione, ma anche il primo paese tra virgolette che ci fa concorrenza, perché nel settore ad esempio mio delle cucine le principali aziende di alta gamma al di là dell'Italia sono tedesche, così come in qualsiasi altro settore, pensiamo all'automotive, eccetera. Poi abbiamo la Francia, la Francia invece è un paese che ha un sistema di stato a livello di costi di produzione, a livello di costo del lavoro molto simile all'Italia, estremamente simile all'Italia. E quindi in questo caso la Francia poi ha il primo gruppo al mondo, ha i primi gruppi al mondo specializzati nel lusso, come ad esempio il gruppo Louis Vuitton, quotato dalla Bolsa di Parigi, che esattamente, sostanzialmente va a fare concorrenza alle aziende italiane, anche se spesso ne ha la proprietà. Quindi la Francia è un paese che manufattura molto simile all'Italia, soprattutto nei settori del lusso, classici, intesi come l'abbigliamento, l'accessoristica, la pelletteria. Quindi è questo tipo di concorrenza. E poi via via gli altri paesi sono il Regno Unito, la Svizzera, pensiamo tutto il mondo degli orologi, l'Austria, appunto il Belgio, Paesi Bassi e il Giappone. Ma sicuramente i due principali paesi concorrenti delle aziende, quindi di BBF, di prodotti di alta gamma, sono la Germania e la Francia. Ci avviamo verso la conclusione di questo video. E quindi il senso di questo video è che ogni PMI o azienda italiana che vuole affrontare i mercati esteri deve partire necessariamente nel creare un prodotto bello, ben fatto, di qualità elevata e che venga posizionato con un brand che richiami il heritage italiano. Il cliente tipico di un BBF è un cliente alto spendente, ma esigente, quindi da questo caso, da questo tipologia di cliente, dobbiamo quindi fornire per forza un prodotto di qualità e di design. e poi è importante che il marketing dell'azienda parli la sua lingua e il prodotto, la lingua del cliente finale, e il prodotto sia di design e appunto creato con finiture e materiali di alto livello. Andiamo a chiudere con una grafica dove identifichiamo 4 step per creare un BBF, quindi lo step numero 1 è avere un brand, le persone comprano prima il brand e poi i prodotti che enfatizzi l'eritage del made in Italy. Step successivo è appunto creare un prodotto bello, ben fatto, ricordiamoci che è un bene finale di consumo e deve essere orientato al consumatore finale. Lo step 3 è creare un marketing, quindi una macchina di marketing di contenuto, quindi attraverso foto, video e articoli che vadano a descrivere il prodotto, che esprimino la qualità del prodotto, il sogno che questo prodotto vuole trasmettere al consumatore finale e poi lo step 4, non meno importante, tutta la parte dell'execution, della delivery, quindi la produzione, la consegna del prodotto al cliente finale. Quindi, questo video è terminato, spero che sia stato di vostro gradimento e ci vediamo nel prossimo video. A presto!